guarda già la gamba dietro come è sfruttata guarda la gamba dietro guarda in basso no dico come è sfruttata la gamba dietro avendo sfruttato solo dalla parte d'avanti vedi la gamba adesso bisogna ottenere vedete che l'arco dietro è rimasto piatto bisogna ottenere un po' più dopo questo è il primo programma al logico bisogna affinarlo anche in funzione dell'esperienza che vedi e 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